se non ti piace la qualità della tua vita probabilmente ci sono sei pensieri che ti stanno bloccando vediamo quali sono il primo è questo ho paura paura di che cosa sono così terribili le cose che puoi dire e fare a chi ti piace a un esame a scuola a un colloquio di lavoro queste sono tre tipiche situazioni in cui le persone dicono di provare paura paura per che cosa siccome sono delle situazioni in cui tu puoi agire la paura riguarda le tue azioni e allora di che cosa hai paura che cos'è così terribile che tu puoi fare e dire qualcosa di così pericoloso seconda frase sono troppo occupato che cosa stai facendo di speciale io capisco che sei occupato ma di speciale che cosa stai facendo davvero è speciale ne vale la pena oppure ti tiene bloccato nel nulla inconcrudente che per di più ti stressa tu hai l'impressione di essere occupato ma in realtà non stai facendo nulla di speciale terza frase che ti blocca non so cosa fare aspetto già e che cosa aspetti devi sapere che cosa aspetti aspetti forse un aiuto per diventare debitore di qualcuno che ti aiuta appunto se non sai informati se non sai cosa fare capisci che cosa devi fare questo ha senso non stare lì ad aspettare devi agire altro argomento che ti blocca ci penserò dopo è impossibile perché ogni cosa che rimandi ti tormenta perché sai che devi farla e siccome è un problema va risolto non ha senso che ti blocchi a lungo non puoi continuare ad ammassare cose che farai dopo devi farle subito devi affrontarle devi addestrarti per poterle affrontare devi agire adesso quinto argomento perché succede sempre a me questa è una lamentela io ti dico che succede perché tu lo permetti coltivi il fatalismo sei pronto a piangere in pubblico per farti compatire è un atteggiamento sbagliato da vittima molto diffuso alcuni si fingono vittima per dominare gli altri col ricatto dell'essere appunto vittima e così continuano a rimanere bloccati nel ruolo di vittima che è un ruolo molto semplice da prendere basta ricordare qualcosa che non ha funzionato in passato e continuare a ripeterlo il mondo cambia il mondo può migliorare ma la vittima è lì bloccata nel passato perché vuole bloccare tutti gli altri vuole essere il dominatore e questo è un ruolo che non funziona e ti blocca ti blocca nei problemi sesto argomento non mi piace e allora sei cresciuto a pappa pronta ha incontrato qualcosa che non ti piace e allora ti hanno promesso il paradiso perché andavi bene a scuola e tu ci hai creduto ti hanno detto se fai questa cosa sarai felice se ti diplomi sarai felice se compri quei prodotti sarai felice e tu ci hai creduto d'accordo ora inizia a svegliati ora capisci che il mondo ti propone anche delle sfide delle cose che non ti piacciono e tu devi agire se non ti piace qualche cosa addestrati per migliorati chi è abile sa condurre un'esistenza felice e la sua abilità è valore che vivifica il mondo se non ti piace qualche cosa impara a trasformarla in meglio non ti piace e questo dimostra che tu sa sai come dovrebbe essere quella situazione per piacere a te d'accordo inizia ad agire considera questi sei pensieri perché ti stanno bloccando sono molto diffusi sembrano ragionevoli eppure ti stanno bloccando ti stanno impedendo di vivere la qualità della vita che tu sogni e allora verifica se in te ci sono questi pensieri e se ci sono affronta l'argomento e risolvilo grazie a tutti 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 grazie a tutti